Siamo a Roma presso lo studio Grande Plutino Torsello. Sono qui con il dottor Plutino che insieme al dottor Grande hanno gestito il loro primo caso con il Navident, un caso di non-si e un caso di epiceptomia. Dottor Plutino che tipo di impressione ha avuto gestendo l'intervento con il Navident. Buongiorno Luca, innanzitutto grazie per averci dato questa possibilità. È stata un'esperienza molto interessante, abbiamo ovviamente scelto due casi selezionati, quindi il caso che ho trattato io erano dei canali calcificati, difficili da trovare e con questo approccio è sembrato molto più semplice e mi sono sentito più sicuro perché guidato da questa tecnologia nel cercare questi canali che poi effettivamente abbiamo trovato e trattato in modo normale. L'esperienza è positiva. Perfetto, grazie e buon lavoro. A voi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.